Presentiamo il libro di Raffaello Belli che è un ricercatore, è una persona disabile, attivista da anni per i diritti dei disabili. L'elemento fondante di questo libro è dire che la questione della disabilità, ovvero di garantire da parte dello Stato ma anche della Regione e degli enti locali tutto ciò che serve al disabile per vivere una vita indipendente, una vita autonoma è una questione costituzionale, cioè di applicazione dell'articolo 3 della Costituzione che dice che i cittadini sono tutti uguali e che lo Stato deve rimuovere tutte quelle barriere che impediscono l'effettiva, concreta uguaglianza delle persone. Io penso che per la Regione Toscana questa possa essere anche un'occasione per creare lavoro, perché poi gli assistenti a disabili sono lavoratori ed anche un'occasione per rendere produttivi, quindi utili alla società le persone disabili anziché un peso che loro stessi non vogliono essere.